L'episodio che voglio registrare oggi voglio farlo senza particolari strutture, negli argomenti, nel come parlarne, nei temi, nei consigli, eccetera. Proprio perché oggi voglio parlare, ed è l'unica cosa che ho in mente, della paura del giudizio degli altri, la paura di quello che gli altri possono dire, delle critiche e delle offese provenienti dalle altre persone. E quindi mi sembrava un controsenso fare un episodio patinato, senza probabili errori, brutture, ma direttamente registrare e pubblicare. Forse metterò soltanto la musica di sottofondo per riempire l'atmosfera e per accompagnarci. Paura del giudizio degli altri. Perché ne parlo? Ne ho già fatto un episodio, ma ne voglio riparlare perché ultimamente mi arrivano tanti messaggi su Whatsapp che mi chiedono come posso affrontare questa paura del giudizio delle altre persone. O addirittura, gli altri mi offendono, mi criticano, come posso farli smettere? E allora voglio fare una risposta un po' per tutti, come se stessi rispondendo ad ognuno di voi su Whatsapp. Innanzitutto non è un tanto un fatto di spingere le persone a smettere di giudicare e di criticare. Non è soltanto un fattore che viene dall'esterno, ma il giudizio diventa offensivo, diventa critico, diventa invadente nella nostra persona nel momento in cui diamo ascolto a quei giudizi. Allora, hai presente il ragazzo, lo studente a scuola che riceve dei giudizi negativi da parte degli insegnanti, addirittura sul suo atteggiamento, si comporta male, è monello, è un cattivo studente, è un cattivo ragazzo, e così via dicendo. Molto probabilmente lo studente, se non sente dire altro su di sé, diventa proprio quello che gli stanno dicendo. E quindi si comporterà da cattivo studente, non studiando, si comporterà da cattivo ragazzo, tra virgolette, trattando male i compagni, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che facciamo tutti, nel momento in cui ci viene il dubbio che l'altro possa aver ragione, ecco che il nostro copione cambia e facciamo di tutto per far sì che l'altro abbia ragione. Perché dentro di noi c'è questo bisogno infame che è quello di piacere a tutte le persone. Un bisogno di perfezione, di non commettere errori, perché così siamo convinti che possiamo piacere a quante più persone possibile. Allora, sfatiamo questo mito, lo dicono sempre, lo dicono tutti, non si può piacere a tutti. Se tu sei te stesso, sappi che già farai una distinzione tra chi ti seguirà, chi amerà la tua compagnia e chi invece non lo farà, chi odierà starti accanto, chi magari manifesterà attraverso le critiche e il suo odio nei tuoi confronti. E poi sappi un'altra cosa, che tutte le persone giudicano, tutti quanti siamo sottoposti al giudizio degli altri. C'è un mio amico che mi viene in mente adesso che un giorno ricevendo dei giudizi, ora non mi ricordo bene, durante un consiglio di classe dai professori nei confronti del figlio, dicendo suo figlio dovrebbe fare più questo piuttosto che fare quell'altro, lui a un certo punto disse, ascolti, mio figlio avrà tutta la vita per ricevere tutti i tipi di giudizi, da chi lo seguirà più avanti, dai professori all'università, dal datore di lavoro, e allora non sarò certo io che inizierò a dargli dei tipi di giudizio di questo tipo. Prendiamola per le pinze questa cosa, perché non vorrei che tu la estremizzassi così come non l'hai estremizzata questo mio amico, però è giusto perché tutti siamo sottoposti a dei giudizi. E allora dobbiamo iniziare a farci conti con questi giudizi. Se iniziamo ad ascoltarli tutti o dall'altra parte, se iniziamo a voler piacere a tutti, è certo che ci blocchiamo, certo che ci freniamo dal voler realizzare quello che vogliamo realizzare, dal raggiungere i nostri obiettivi, dal voler fare semplicemente qualcosa che vogliamo fare. Perché non pensiamo questo per me va bene? È buono per la mia vita e quindi lo faccio? No, iniziamo a pensare. Va bene per mia madre? Va bene per mio padre? Per la mia compagna? Per questo, quello, l'altro? Come quando si porta a casa un compagno o una compagna e la famiglia dice non mi piace. Allora iniziamo a condizionarci, cavolo, ai miei non piace la mia compagna? Forse allora non è la donna che fa per me, per la mia. Ma scusami, ma tu devi andare con il tuo compagno, la tua compagna e la tua famiglia? Oppure comunque devi costruire un progetto con quel tipo di famiglia? Certo, il giudizio è pesante. Stare confiato sul collo sul compagno che ti deve accompagnare per tutta la vita è pesante. Però comunque è tua la vita, non è quella degli altri. Se tu decidi che quello fa bene per te vuol dire che fa bene per te, che è buono per te. Allora, il messaggio che voglio trasmetterti oggi. Smettiamo di voler accontentare tutti, di voler piacere a tutti. Datti il permesso di sperimentare, di sbagliare, di non pensare troppo sulle cose perché altrimenti inizia a pensare in modo automatico, ad attivarsi quel meccanismo del chissà se a questo piacerebbe, chissà se questo potrebbe trarne vantaggio, chissà se... non lo sai. Non puoi tenere tutto sotto controllo. Ci saranno fattori nel successo, nella non riuscita di qualche cosa, nel non piacere, nel piacere agli altri, che non puoi controllare proprio perché non dipendono da te. Allora, puntare al massimo? Quello sì. Migliorarti? Quello sì. Prendere qualcosa di buono da delle critiche, se sono fatte bene, se sono delle critiche costruttive, che non sono dei consigli velati per dirti guarda che tu non vai bene? Allora quello sì. Però poi tieni in mente che il giudizio non è altro che un desiderio da parte di qualcun altro di vederti così come loro ti vogliono vedere. Troppo brutta, troppo bella, troppo magra, troppo grassa, eccetera. Non è altro che io vorrei vederti secondo i miei standard in questo modo. Quando ricevi un giudizio allora, dato che non si fa mai questa cosa che sto per dirti, aggiungi nella tua mente per te. Per te questo episodio è troppo lungo. Per te quello che sto dicendo è troppo ridondante. Per te, per te, per te. E per quella singola persona non è una cosa universale. Se diventa però anche per te che stai ricevendo il giudizio qualcosa con cui identificarti, allora inizia a distinguere. Inizia a pensare a quello che è buono per te, inizia a pensare alle cose che sono belle per te, che ti sono utili e fai quelle cose non per gli altri ma per compiacere, anzi per il tuo piacere, la tua soddisfazione, la tua felicità.